di prossimo a Procida e il professore Angrilli ha ficcato il dito nella piaga quando parla di territorio, quando parla dei rigagnoli della storia, per utilizzare proprio una frase di quello che lui ha detto, Lucien Lefret, quante persone guardando quella posita, madonna, pare proprio in un presepio. Però dovete sapere che quello che era il tribunale civile penale di Amalfi, che poi è stato spostato a Salerno, c'è un numero di pratiche rispetto alla grandezza del territorio, al numero di abitanti che è fuori dal comune rispetto a tutto l'andamento giudiziario italiano. Questo per darvi un'idea. Intanto richiamiamo ancora accanto a noi il maestro Napolitano, perché sicuramente in questo spaziare, il Vincenzo Esposito, prima di questo volume, ne ha scritto un altro che si chiama La terra dei limoni neri, che era espressamente dedicata a una fetta del territorio della penisola sorrentina. Quindi vi preannunciò questo e poi dopo ne sentiamo il perché. Maestro. Ecco qua. Allora, io volevo un attimo agganciarmi idealmente al pezzo precedente che abbiamo fatto. Dobbiamo sapere che tra i vari misteri di Michele e Ma c'era anche quello della paternità del testo. E il grande Sabato di Giacomo dice l'impossibile per attribuirlo a Sabato Rosa. Sabato Rosa vi ricordo che era il grande allievo di Aliello Falcone, ma come lui allievo dei grandi pittori del secente, con le quali aveva a che fare, ebbe anche a che fare, il buon Caravaggio che si buscò uno sfregio quando aveva modo di avere un alterco con il napoletano nel Cerrito, la famosa taverna del Cerrito. E quindi lui fece l'impossibile per attribuire a Sabato Rosa, ma poi i carteggi non furono esaustivi e quindi rimane questo canto antico. Ma Sabato di Giacomo lo perdoniamo perché poi lui è stato fautore di un'altra grande scoperta. Fino alla metà dell'Ottocento il grande Tommaso Aniello da Maffi non aveva una patria. Si pensava che Tommaso fosse il nome da Maffi la provenienza, che fosse un pescatore, tutt'altro. Grazie a Sabato di Giacomo andrò nella chiesa che sta al centro della piazza Mercato e trovò l'atto di battesimo di Tommaso Daniello. E quindi nel 1620, troppo sono stati tanti anni, quasi non mi è mai festeggiato questo evento, i 400 anni della pandemia, e la nascita di questo personaggio. E quindi lui scoprì che il grande Masaniello era Tommaso Aniello da Maffi, dove da Maffi era il cognome, perché era figlio di Pietro da Maffi, ed era poi un pescivindolo, non era un pescatore. Ma lo perdoniamo a Sabato di Giacomo, perché ha scritto pagine bellissime. Io ne voglio regalare una, secondo me una delle più belle poesie rivolte al mare, è che è Luna Nova. Giacomo, perché ha scritto pagine bellissime. Giacomo, perché ha scritto pagine bellissime. Non dormisci, non dormisci, non dormisci. Non dormisci, non dormisci, non dormisci, non dormisci. Non dormisci, non dormisci, non dormisci. Non dormisci, non dormisci, non dormisci, non dormisci. Non dormisci, non dormisci, non dormisci. Non dormisci, non dormisci. Non dormisci, non dormisci. Grazie.